Posso inserire più una descrizione della categoria, però se io faccio verbali del collegio docenti e ho l'esplicativa anche la descrizione stessa. L'importantissimo invece è questo campo, che è un campo numerico, che mi indica la murata. Il valore divenzio visto qui avrà effetto poi quando vada a fare la pubblicazione del singolo atto verrà utilizzato per calcolare la data di scadenza, che è una proposta che viene fatta, non è obbligatorio aderire alla proposta, per cui ad esempio io posso avere degli atti in una categoria che hanno validità temporale diversa, per cui praticamente quando vedremo poi la pubblicazione vedrete che il sistema è fiscale per quanto riguarda la data di pubblicazione, che deve essere la data esattamente nel giorno in cui io sto facendo la pubblicazione, per cui nel giorno in cui clicco sul pulsante e pubblica. Però per quanto riguarda la data di scadenza dell'atto, il sistema mi dice guarda tu mi hai detto che l'atto scade tutto il giorno, però in base al numero di giorni impostato sulla categoria la scadenza dovrebbe essere questa, se vuoi la giorno in automatico. Per cui la pubblicazione è una comunità che viene messa a disposizione, per cui questa possibilità di avere calcolato in automatico la data di scadenza. Se ad esempio tutti i verbali del consiglio di collegio docenti, praticamente devono essere mantenuti all'alto, potenzialmente 15 giorni, mentre io inserisco qui 15, non ho proprio bisogno di andare a scrivere quando vado a codificare l'atto, la data di scadenza, in automatico praticamente mi verrà proposta in fase di pubblicazione. Anche qui, per esempio, è stato scritto il file di log con la data e l'ora, questi sono i dati basilari, poi ci sono anche altri dati che vengono comunque ebonizzati all'interno del database che qui non vedete, indirizzi B lo vedete soltanto se vi posizionate sopra e lasciate su il mouse. Viene visualizzata l'operazione che è stata effettuata con l'inserimento della categoria con tutti i dati che abbiamo utilizzato. Una volta inseriti i responsabili e le categorie possiamo passare agli atti e codificare per gli atti. Andiamo su aggiungi, qui è un po' o la distretto, mi sa che vi salto un pochino soprattutto perché ci sono quelle descrizioni che vanno su più video. Comunque, il numero dell'albo viene riportato, però non è possibile inserirlo. Abbiamo detto che la numerazione degli atti all'interno dell'albo avvengono in maniera completamente automatica e in maniera completamente automatica viene gestita anche il passaggio tra un anno solare e l'altro. Per cui al 1 gennaio del prossimo anno il sistema quando entrate nella gestione degli atti vi dirà guardate che è stato cambiato l'anno a zero il portatore progressivo degli atti. Potete anche non farlo, però nel momento in cui è andato a pubblicare il primo atto sicuramente lo si deve fare, ma sarà un passaggio indispensabile. Data di pubblicazione dell'atto con il suo calendario in maniera visuale, il codice di riferimento che in genere si utilizza il numero di protocollo, l'oggetto, un campo descrittivo. Data di inizio pubblicazione e data fine pubblicazione, alla fine non vi servono assolutamente a nulla perché abbiamo visto che soprattutto la data di inizio pubblicazione impone il sistema in fase di pubblicazione, la data di inizio, la data di fine praticamente può essere calcolata per cui se ci vanno bene 15 giorni che vanno impostate all'interno della categoria non ci sono niente di inserirlo, eventuali note invece bisogna valorizzare il campo categoria cioè a quale categoria appartiene l'atto e qual è il responsabile del procedimento. Questi due campi sono obbligatori, la procedura non memorizza l'atto finché non sono valorizzati correttamente questi due campi. Aggiungi atto e a questo punto l'atto praticamente sarà reso disponibile nell'elenco degli atti. Le icone che sono associate, che rappresentano le operazioni che si possono realizzare sull'atto sono la prima, la cancellazione, disponibile solo ed esclusivamente se l'atto non è pubblicato. La seconda è la modifica, disponibile solo ed esclusivamente se l'atto non è modificato. L'apploat di allegati, idem, la visualizzazione invece disponibile sia in fase di creazione dell'atto sia in fase di atto pubblicato e addirittura anche dopo la pubblicazione quando l'atto è scoperto. Lo stato indica mentre lo stato dell'atto che può essere pubblicato, annullato oppure in fase di redazione per cui c'è la possibilità di approvare e pubblicarlo l'atto. Al momento non possiamo ancora approvarlo l'atto perché abbiamo detto che non ci sono allegati per cui andiamo sulla cartella allegati, vengono riportati i danni generali dell'atto giusto per avere l'idea, per mantenere le informazioni dell'atto e sapere su quale atto stiamo lavorando gli diamo aggiungi nuovo, viene visualizzata la finestrella in cui è possibile una descrizione in pdf, lo sfoglia, adesso dovrete accontentare con pdf generico, apri, aggiunge allegato. viene riportato file caricato, nome, il nome dell'allegato, il percorso in cui è stato memorizzato e la dimensione del file. A questo punto aggiungiamo un altro allegato verbale firmato, andiamo su sfoglia, dovrei avere scaricato da internet un verbale in formato P7M che sono i formati firmati digitalmente, aggiunge allegato, anche in questo caso è stato caricato, stasera informazione. Ok, perfetto, a questo punto torno indietro. A questo punto il nostro atto è pronto per la pubblicazione, per cui semplicemente clicco su pubblica. Allora, la base di pubblicazione segue una serie di step che praticamente devono essere validati per poter andare allo step successivo fino ad arrivare alla possibilità di pubblicare realmente l'altro. Allora, il primo era praticamente il numero e vabbè è stato l'anno di pubblicazione che è stato passato. Il numero dell'atto, lui mi dice guarda dai parametri risulta 0, da progressivo l'ultima pubblicazione deve essere 1, per cui gli dico questo è un elemento che mi impone per niente di inserire, di apportare la pubblicazione, quindi imposta parametro A1. Ok, altro step successivo validazione della data di pubblicazione. La data di pubblicazione in questo caso è 0, perché non l'avamo inserita, ma se l'avessimo inserita e per niente era una data precedente ad oggi si bloccava lo stesso e mi diceva guarda non può andare avanti, la data di pubblicazione deve essere aggiornata al 30.03.2012. Altro elemento, data di fine pubblicazione, mi dice guarda la data di fine pubblicazione è uguale a 0, i giorni di pubblicazione atto sono uguali a 0, lui avrebbe fatto comunque la differenza tra la data di viso pubblicazione e la data di fine pubblicazione e mi dice però i giorni di pubblicazione standard per la categoria sono 15, poi aggiornando al 14.04, ok, aggiorna, a questo punto ha verificato lo step del numero di allegati, è passato indenne perché praticamente gli allegati li avevamo inseriti, se non avessimo inserito allegati si fermava a questo punto e mi chiedeva obbligatoriamente di inserire almeno un allegato, superati tutti gli step ho un riassunto dei dati dell'atto, e praticamente il pulsante di pubblicato, clicco sul pubblicato, a questo punto l'atto è stato pubblicato e praticamente abbiamo ora soltanto due possibilità, lo stato e una pubblicazione, abbiamo la possibilità di visualizzare l'atto, ok, dati generali dell'atto in due allegati, allora, un ultimo video, una...